Eeeh, saluti di Gittorio e Quagiccate che parla, oggi sono qui con una nuova puntata di Rayman 2 The Great Escape Nella scorsa puntata abbiamo ottenuto la terza maschera affrontando un boss salta la corda direi E oggi siamo qui per continuare con la tomba degli antichi Ok, avevo capito, non ci sono molti livelli rimasti Da qualche parte in cielo, la nave prigioniera dei pirati schiavi a bordo, 42, eh, dei pirati schiavi a bordo Allora, ha trovato la terza maschera Cosa? Ma non è possibile Si troverà la quarta, me la prenderà con te Ok, fino ad ora non hanno fatto neanche quelli Ma mi sa che questo è un altro di quelli belli scappa dalla barca Oh Eh, vabbè Clark è stato catturato qui prima di essere portato al controllo e missione Chi era? Clark E come l'ho libero? Comunque no, il volo non ce l'ho a disposizione purtroppo Sembrava quasi un precipizio Oh no Oh, questi fanno male Ups Ho preso il c'è poi Ok, grazie Almeno non mi devo arrampicare E tra l'altro mi dovrei buttare lì sotto C'è un interruttore lì Mi sa che devo Anche perché mi fa anche risalire sopra Volendo Oh no, più di uno Cazzi, non mi ammazzare per favore Fa che non si arrampichino Ok, no Per qualche motivo questi ragni non hanno La magia di poter salire Tante vie a disposizione Che cavolo mi vuol dire Questo Voglio sapere qual è la parte extra prima Dannazione Boh Mira al mister Per favore E tu che cavolo stai facendo Ok C'è un ragno Ci sono loro Perché miri lì A me basta colpire la sua mano E ciao Tra l'altro che cacchio faccio qui Ah, mi posso arrampicare Non mi sta colpendo, vero? Non mi sembra Sembra che sia solo un cretino Vabbè Hanno un sacco di i-frame Questi stupidi ragni Ecco cos'era Che non riuscivo mai a ammazzarli E questa è un'area senza musica Di nuovo Ok Questo è quello che mi aspettavo Tipo Ogni stanza ha un interruttore Ma ancora non so che cavolo fanno Ah Sì E effettivamente anche il primo interruttore Ha fatto quello Ma dov'è quella vasca? Scusa Non possiamo già visitare Dobbiamo ancora arrivarci Oh, 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 oh Vai, vai, vai Vieni a dire Buono No No Giusto Questo Non ci penso mai Ma il fumo apparentemente è dannoso Dove può essere l'interruttore? Dove può essere l'interruttore qua? Queste sono le tombe dei pirati Per caso So che sembra una catacomba Ma non so di che cosa Esattamente Buono Ancora non vedo l'interruttore Oh, ok Buono Però dov'è quell'aria? Giusto Evita il fumo Che non va bene C'è points Per bello Questa probabilmente mirava Sì Mira agli interruttori Ok Questa è l'area Capito Capito Ok Immagino Sia tutto qua A livello Entriamo in questa tomba Siamo nel mondo dei morti adesso O siamo O siamo in un livello veicolo Per favore No Bene Sto alzando Motivo Barile Vai sì Ok Vai veloce Ok Pirati in alto Non posso fare niente Era qui Telecamera Potresti performare Per me Non ho molto spazio Qui Ehm Buono Sarà tutto così Presso che un ostacolo Fiume Sarò su un barile Dovrò evitare cose Mentre sono su barile Immagino Telecamera Ritorno a posto Per favore Io premuto Per volare Per volare So che non posso volare Ma posso almeno planare Tonto Grazie Mi rigiri la telecamera Per favore Oh Oh no Vai Cassa Dov'è Oh C'è il barile Fai che non si allunga Sta cosa col barile Probabilmente qua sotto Vero No Boh Sarà più avanti Ah Mi tocca Eh Ciao Che inizio Ebbene Intanto questo qua è un livello In cui ci fregheremo altamente Delle cose Vabbè Finita? Dimmi che è finita col barile Grazie E invece no Era solo un preannuncio Di quello che sarebbe stato Oh E te perché sei lì? Cosa ti aspetti Che faccia un giro A 360 gradi Col barile? Ma tu sei fuori Può darsi che lì Non c'è poi Non me ne fare Oh forse Sono obbligato A fregarmene Tra l'altro Lì era Con lì era Tipo l'inizio What? Non comprendo Va bene Saliamo allora lì Bene Per qualche motivo Abbiamo bisogno di fare Il cambio di barile Facciamo il cambio di barile Ora so che c'è la gabbia lì Questo sembrano Di quello che crolla Ma no Non lo è Gioco? Lo vedi bene Che è lì È dietro qualcosa Che mi impedisce Di prenderlo Quelle ragnette Le impediscono La presa di questo Vabbè Che dire Sacrifico Forse non avrei dovuto farlo Ma chi se ne Ho preso Sa stupire a casa Ne ho già mancate una Quindi non so cosa Mi serve farlo Però facciamo Ok No 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 Cosa sto facendo Almeno che ripano In fretta Ok Questo è quello che ho paura Che inizino A mandarmeli Da Dove la telecamera Non collabora Via Ok Non male Dove sono Dove sono Dove sono Dove sono Avvisa Avvisa Via Se non mi avvisi Dove cazzo Sono State nella parte Arrivano Da tutte le direzioni Sti stronzi Ho paura Che sarà un Non credo Ma voglio Che li copisci Ok Ok Bueno Musica in ritardo Ciao Immagino Staremo vicini Nella fine Di questo livello Roba Nascosta Termitenza Si blocca Proprio Boh L'ho vista Attivarsi Quindi pensavo Intermitenza Però Palesemente No Giusto Il gas Ti uccide Perché sto ancora A pensarci Oh shit Mi sono anche Sto fottuto Da solo No Grazie Il cielo L'angelli Scordatelo Cos'è Questa Musica Come mi difendo Da questi Sapevo che sarebbero arrivati Ma non ho idea di come cavolo Mi difendo da quelli Come Salto e basta Sperando di sapere Quando è che arrivano Mi dovrò fare Questa strada Ogni volta Ora Voglio sapere Come Come Oh Vanno entrambi Verso di là Pensavo Erano solo Un scambio Di barile A caso Date che Già esistono Non era abbastanza Oh Grazie al dio Buono Cosa sta facendo Adesso qui Ok Che succede Che succede Che succede Ah Tu sei uno di quelli Un po' più Fastidiosi Chissà come cazzo Evita What the Ballerino Smettilo un po' Immagino Vogliono Che usi Sto cavolo Di pillar Come Scuro Però Questo qua Ci piace Anche ballarci Sopra Ok Ciao Solamente in un livello C'era una porta Così Che si Potrebbe rompere solo con Un colpo caricato Ah Però il barile è lì Ups Viene Che pesce Una corto Ok Grazie Grazie Hitbox Sì Sì Ma Questo qua Era solo extra Oh Ciao Lam Ok Oh Ciao 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 Ok, ok. Ok, è passato il gameplay in pochi secondi. Ora, cosa posso fare? Ci sono pulsanti e... Ok, lui può inciampare qua. Cosa faccio per una volta? No, 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 no. Ho capito, devo fare inciampare queste strane corde elettriche, però... Stop, cosa faccio? Disattivati, ok. Qual è la corda che si è attivata adesso? Ok. Devo... Anche se cade sulla terra. E questa è una bella posizione, sta continuando a cadere. Ma... Minchia. You're a janky shit, man. Non vi ho attivato entrambi? Teruttore, funzionate! Bo... Ah, ci sono molte cose che non capisco di sto gioco. Allora, pulsante attivato di lì. Pulsante attivato di qua, perché prima non funzionavi. Oplala. E perché adesso vi siete disattivati subito, anche quando... Non lo è. Non è disattivato. Non comprendo. Vai. Ti ho attivato, man. Ti ho attivato. Oh. Vieni, stupido. Oh. C'ha un hitbox suo. Non stupi la scatola. Vieni qua, almeno. C'è qualche altro pulsante che sto evitando. Guarda che vieni qua. Vieni qua. Non farmi sprecare. Ok. I boss sono i pulsanti, non questo qua. I pulsanti sono il boss. Perché si disattiva qua al centro ogni volta? Vieni qua. Stupido, cretino. Ma che... Perché mi prendi a caso? Non... Ma vaffanbro... E poi cadi, e poi cadi. Oh. Così difficile capire come cacchio ragioni. Eh, vabbè. Ok. Ciao. Ok. Carino in concept, però... Fate funzionare meglio i pulsanti prossima volta, grazie. Sì, andiamo. Sì, andiamo. Ok. Dove rimanere lì. Ciao. Buono. Buono. Un ottimo risultato. Le montagne di ferro. Poche casse, tanti l'hanno comunque sempre. Oh. Il problema è che non ho molto da tagliare di questo livello che ho appena fatto e siamo già ai 25 minuti. Dall'azione. Mi sa che devo interrompere comunque qua. Quindi, qua c'è tutto. Noi c'è la prossima. Che siete saputate. Ci vi è piaciuto, lasciate un like. E arrivederci a tutti quanti. Ciao, ciao.